Renato Bartolomeo Massucco Le trenta giornate del Boio Capitolo nono, parte seconda Il tenente addetto alle esecuzioni fece suonare la tromba e richiamò gli ospiti che sotto la brezza fredda si erano ritirati nelle casette Il capo della giunta provvisoria ordinò che gli ospiti seguissero il Boia nel cimitero E dietro il drappello di soldati, dietro la barella, passarono per il corridoio degli specchi venti facce smunte che non osavano riflettersi Attraversarono il teatrino che era il passato per proiettarsi nel futuro del verde cimitero che verde non era al buio E guardarono rabbrividendo se mai quel carro di fuoco del caballero pazzo arrivasse questa volta a lambire casa celeste e a far cessare il monotono registro della crudeltà umana Ma c'era solo Venere in alto che faceva la sua luce inutile col cerchio di vapore rosso e sul tappeto d'erba c'erano i piedi dei soldati comandati per la morte C'erano i piedi del capo della giunta provvisoria che voleva creare un mondo nuovo e rompere col passato C'erano i piedi da fantasmi degli ospiti di casa celeste troppo a lungo sopravvissuti e tremanti come anime perse I soldati deposero la barella sul bordo della fossa e anche i militari del picchetto d'esecuzione, stanchi si staccarono dal muro e si avvicinarono alla tomba Il capo della giunta provvisoria si accostò mentre due soldati sistemavano una lapide azzurra Boia, servitore infedele, disse «Scomparirai con questa maledetta istituzione» L'uomo nero in barella col cappello filettato d'oro alzò appena un po' il capo «Ho un boia di lusso, io», rispose «Ogni regime ha i suoi boia, ma io ho un boia di lusso» Il capo della giunta provvisoria rovesciò la barella nella fossa profonda e il boia, vivo, cadde nella bucca «Copritelo», disse rivolto ai soldati del genio e lanciò una manata di terra sul corpo nero che aveva fatto solo un piccolo tonfo giù sulla terra fresca I soldati cominciarono con le palate di terra mentre il capo della giunta invitava gli ospiti di Casa Celeste a mensa per la cena con gli ufficiali Servivano i soldati e i due gruppi si sedettero in due file di tavole contrapposte e piuttosto lontane Disse il tenente che aveva comandato le esecuzioni rivolto al capo della giunta provvisoria «Preferisco che un altro diriga l'esecuzione degli ospiti superstiti» «È stato massacrante il pomeriggio» «Ma comunque, sempre agli ordini» «D'accordo», rispose il capo «L'ultima esecuzione la comanderà il colonnello» e si rivolse al giovane colonnello che scosse la testa e disse «No, capo» Nessuno replicò e tutti continuarono a mangiare Gli ultimi ospiti di Casa Celeste mangiavano e guardavano con diffidenza gli alti ufficiali «Ho visto una grande buca, vuota e inutile», disse Chiara rivolta ad Eleonora Eleonora non la lasciò continuare «Ricordati quello che ti ha detto il bambino» Chiara, la camerierina rossa e nera, si piegò sul piatto «C'era un profumo di vapori che veniva in su, ma c'era anche una buca nera, al di là del corridoio degli spetti, al di là del teatrino, al di là dell'altro piccolo corridoio» Beppe il professore si alzò e disse forte, rivolto alla messa degli ufficiali «Che ne farete di Casa Celeste?» Il capo della giunta provvisoria mosse il capo dal piatto Si pulì tranquillamente la bocca con il tovagliolo «La polverizzeremo», disse «Questa notte Non rimarrà pietra su pietra Su Casa Celeste solo un cielo celeste C'è un bel cielo da queste parti Saranno rovine per rovi e rettili La rivoluzione non bada ai dettagli» Beppe il professore rispose «Lasciatelo stare questo monumento, lasciatelo alla storia, farà per secoli il suo discorso» «Un discorso d'infamia», disse il capo della giunta provvisoria «Guardi», replicò Beppe, «che ogni monumento è un discorso d'infamia Le piramidi sono sangue degli schiavi Le opere colossali grondano sofferenze e disumanità Sfruttamento e povertà Testimoni di civiltà? Ma scherziamo? Testimoni di brutalità e di violenza Opere colossali, memorie di pietra della grandezza Sangue e violenza Ecco che cosa sono E noi le ricordiamo come monumento di civiltà Lasciate, Casa Celeste, questo isterico monumento della realtà Crudele come tutti gli altri Forse ha fatto meno vittime degli altri Meno miseria Meno sofferenza Come trovi una pietra di civiltà Trovi sangue Nessuno qui ha preteso l'eternità Il capo della giunta provvisoria non rispose a Beppe Ma si rivolse al colonnello e gli disse a bassa voce Voglio che, subito dopo cena, l'esecuzione sia rapida Non fateli soffrire Portateli al cimitero con una scusa e falciateli di sorpresa Non occorre neppure che li seppegliate Basteranno le macerie dell'edificio Il giovane colonnello questa volta non rispose Si era giunti alla frutta Si alzò il prete cattolico E fissando il capo disse Che cosa farete di noi, generale? Non sono un generale Sono un commissario politico Rispose erosamente E si chiuse nel silenzio Rorzò 14 14 15 15 16 14 38 14 15 15 Gregorio il giocatore beve una grappa si alzò aveva i baffi, un'aria volpina era abbastanza alto un po' gobbo e scoppiava a volte in risate folli incontrollate portava una giacca pesante una giacca che non lo abbandonava mai neppure d'estate aveva occhi scuri e capelli trascurati camminava un po' gobbo spostando le spalle si alzò dunque Gregorio il giocatore e con lo sguardo folle di chi punta al tappeto verde muovendo con un sottile tremito le braccia si avviò verso gli alti ufficiali arrivò davanti al tavolo e fece un inchino da vecchio gentiluomo un inchino e una risata si fermò davanti al tenente che aveva comandato i plotoni d'esecuzione dei muti fammi vedere il tuo revolver tenente disse il tenente gli porse la pistola gli ufficiali guardavano divertiti Gregorio il giocatore aprì l'arma tolse tutti i proiettili dal tamburo e li ripose sul tavolo dinanzi agli ufficiali ne prese uno in mano lo carezzò lentamente lo infilò nel tamburo e richiuse il revolver e fece ruotare il tamburo teneva l'arma in mano e rideva e la mano gli tremava poi disse ho sempre amato giocare estasi orgasmo quella pallina che gira quella carta che viene e che non viene quella gente che ti vede e non ti vede quel muro che sfondi ogni volta dove sai subito il sì e il no e quando non potevo andare a giocare mi fermavo con qualche amico sul ciglio della strada e guardavamo le automobili scommettevamo sulla targa pari o dispari fino al tramonto fino al buio su quelle macchine che passavano e non sapevano che qualcuno le numerava tenente gioca con me a casa celeste nell'ultima sera di casa celeste c'è un solo proiettile tiriamo un colpo a testa puoi cominciare tu o se vuoi comincio io tiriamo fino all'esplosione sarà per me o sarà per te sei un soldato e non hai paura fa divertire Gregorio il giocatore Gregorio depose con una movenza dalla che la pistola sul tavolo mentre gli ufficiali alticci dicevano gioca tenente il tenente beve un bicchiere afferrò la pistola e se la portò alla tempia schiacciò ad agio il grilletto e la posò esausto sul tavolo Gregorio l'afferrò sorridendo se la portò rapido la testa schiacciò il grilletto sentì il rumore metallico a vuoto e la ripose sul tavolo si spazzolò un bordo della giacca e guardò ironico la mensa degli ufficiali e leonora disse lascia perdere Gregorio lascia perdere siamo fuori devi lasciar perdere casa celeste non esiste più siamo fuori non siamo fuori gridò Gregorio a te tenente il tenente riprese la pistola la cosa continuò finché il tenente trovò il colpo una detonazione secca gli fece piegare e rigidire il viso stanco abbandonò le braccia scivolando sul tavolo e rivoltando alcuni bicchieri si arrovesciò all'indietro e cadde sotto il tavolo il capo della giunta provvisoria fece un cenno ai soldati che trasportarono fuori il corpo del tenente Gregorio rideva davanti al tavolo degli ufficiali disse il capo mettetelo nella fossa grande c'era silenzio e nelle orecchie di tutti quella detonazione non la finiranno mai esclamò Chiara Gregorio scelse con cura un altro proiettile lucidò con le dita l'ottone della pallottola l'infilò nel tamburo si spostò lungo il tavolo degli altri ufficiali si fermò davanti al capo della giunta provvisoria con la pistola in mano a te capo gioca anche tu mostrati all'altezza dei militari il capo scosse la testa Gregorio disse giocheremo in modo diverso io sparerò contro di te e tu sparerai contro di me c'è un solo proiettile nel tamburo ci sono le stesse possibilità mentre il capo si portava le mani al viso schiacciò il grilletto e la pistola fece un rumore metallico a vuoto sì capo disse il giovane colonnello quando Gregorio gli porse il revolver e il capo non seppe trattenersi puntò con ira l'arma contro Gregorio e fece scattare il grilletto ma l'arma non scoppiò fu di nuovo un rumore metallico a vuoto Gregorio riprese per la canna la pistola la puntò di scatto contro il capo della giunta rivoluzionaria e fece rimbombare un colpo che spaccò la fronte dell'uomo e lo ributtò indietro contro lo schienale della sedia il giovane colonnello fece cenno ai soldati di servizio di portare via l'eroe della rivoluzione e di buttarlo nella grande fossa per chi era la grande fossa colonnello chiese Gregorio il giocatore che aveva infilato un altro proiettile nel revolver era la fossa della rivoluzione continuò Gregorio il colonnello aveva un'aria stanca non ti farò sparare colonnello tu sei di un'altra razza sparerò per me questa volta da solo io sono un giocatore un vero giocatore perde sempre giocherò da solo un colpo al soffitto un colpo a me chi è stato a casa celeste non ha più paura non farlo disse il colonnello la grande buca del cimitero ormai non serve più butta via quell'arma hai già giocato troppo ma Gregorio si puntò la pistola alla tempia schiacciò il grilletto e cadde tra le due tavolate dopo una terribile detonazione ed aveva sul volto morente un riso beffardo aveva vinto e pareggiato il conto il colonnello fece scattare gli ufficiali mosse un cenno verso gli ospiti di casa celeste e richiamò i soldati uscirono tutti dalla sala da pranzo lasciando Gregorio steso a terra e Eleonora gli diede un bacio chinandosi e inzuppandosi le labbra di sangue poi fuggirono insieme attraverso il corridoio degli specchi verso il grande cortile uscirono dalla piccola porta attraversarono il prato tra le due mura attraversarono l'altra piccola porta e furono fuori soldati ufficiali e gli ospiti di casa celeste il giovane colonnello fece venire un camion militare chiamò un sergente ordinò agli ospiti di salire sulle panche di legno e parlò brevemente col sergente il camion si mosse per la strada mentre un boato di motori e di ferraglia si sentiva alle sue spalle c'erano due soli uomini sul camion ed erano in cabina l'autista e il sergente nessuno parlava mentre il camion fuggiva nella strada polverosa in mezzo alla prateria nessuno parlava tra l'aria e la polvere e lo sbattere del tendone aperto solo nella parte posteriore poi fu chiaro improvviso lontano mille colpi mille palle di fuoco sbriciolavano casa celeste tracciavano segni misteriosi nel cielo spaccavano il buio in scoppi di fiamma lucciole di morte nella prateria e gli ospiti bussarono contro la cabina di guida e gridarono fermati all'autista e scesero nella notte a vedere la fine di fuoco di casa celeste il freddo piegava le erbe nuove mentre lontano punti rossi si spaccavano in boati e attimi di luci bianca sparavano i cannoni e i carri armati spaccavano muraglie e casette e seppellivano il cimitero agli ordini del giovane colonnello mentre il soffitto della sala da pranzo aveva schiacciato il corpo di Gregorio il giocatore il teatrino si sbriciolava e le lapidi blu volavano in aria come cartoni nessuno degli ospiti parlò per i tanti chilometri della prateria erano roi saliti sul camion quando i fuochi di casa celeste si erano spenti quando tutte le pietre si erano assestate in attesa di rettili e di rovi e domani sarebbe spuntato il sole di maggio il camion scuoteva i passeggeri ed attraversava profumi di sera e musiche di insetti c'erano anche stupide stelle che non dicevano niente a quei brandelli di niente che stavano per rientrare tra la fragile luce del tempo poi nelle prime ore del mattino il camion lasciò la prateria si inerpicò su una piccola collina superò il dosso e si fermò sotto una distesa di luci una nube di vapore ed un lontano rumore di sirena il sergente scese dalla cabina via disse agli ospiti di casa celeste via sparite e dimenticate presto perché anche la rivoluzione vi vuole morti sparite che noi dobbiamo rientrare in colonna non ricordate nulla disunitevi laggiù c'è la città fra un'ora sarà chiaro e gli ospiti scesero dal camion e il camion ripartì indietro a raggiungere la colonna verso la collina correvano disuniti incontro alle luci della città e verso un'alba che cominciava a macchiare di latte le montagne